un saluto agli amici delle onde funky un saluto agli amici di london one radio e per una che è stata assolutamente la regina d'inghilterra direi che questo è il posto ideale noemi ciao benvenuta ciao paola che piacere rivederti anche per me erata abbiamo indossato una corona della regina insieme parecchi anni fa e queste cose non si dimenticano no mi ricordo che disco figo davvero io devo dire che tu hai sperimentato non so se la parola giusta però ti sei sicuramente tolta una serie di voglie musicali e soprattutto hai deciso sempre di non adeguarti e probabilmente di non fare quello che era più semplice anche ti amo non lo sai la canzone che ieri sera è presentato per la prima volta al festival non è assolutamente una canzone semplice veronica beh no è una canzone che innanzitutto è una sfida a livello canoro perché per il mio tipo di vocalità beh meno parole note più lunghe per me più facile insomma queste grandi aperture però mi è piaciuta proprio la sfida di entrare in contatto innanzitutto con Alessandro Mahmood eh che è l'autore del pezzo insieme ad Alessandro Lacava entrare in contatto con una sensibilità diversa con un fraseggio diverso ma anche lui poi ha fatto un passo verso di me perché diciamo che la melodia si sviluppa in un modo eh dove diciamo che noi noi due le nostre personalità si rincorrono nel pezzo poi è una canzone che mi piace un sacco perché lancia un messaggio pazzesco racconta una parte di me eh del modo in cui sto vivendo oggi insomma e in rapporto con gli altri con le nuove emozioni che si possono vivere no quando uno entra in una fase diversa della propria vita eh mi hanno capito molto hanno delle grandi antenne questi questi cantautori pazzeschi con cui ho eh il piacere di collaborare quindi sono contenta assolutamente sicuramente una grande sensibilità Noemi ero curiosa di farti questa domanda che senso che che effetto fa essere eh definita Miss Eleganza del Sanremo duemilaventidue anzi la domanda è un'altra fa piacere tanto quanto i complimenti per la canzone? Beh guarda lo sai che sì in realtà io la vive in una maniera molto a trecentosessanta gradi credo che insomma quello che portiamo a Sanremo non è solamente una canzone ma è il nostro mondo e lo spremiamo in tantissimi modi sia con la scelta del pezzo della produzione del pezzo ma anche con la scelta dell'abito l'abito fa il monaco secondo me sul palco di Sanremo perché ci dà la possibilità di ehm rafforzare un messaggio poi è un palco da dove i messaggi acquisiscono una grande energia e questo pezzo aveva bisogno anche di essere raccontato no ma ci sta mi mi piace mi fa anche a me piace molto anche perché mi pare conoscendoti da qualche anno che eh finalmente tu non abbia più paura di quella cosa lì e che quindi ti sia come dire eh rivelata no rivelata in tutte le tue componenti femminili senza tenerne nascosta più la sensualità magari no o la bellezza perché no? ma sì delle volte pensavo che potessi essere in qualche modo non lo so controproducente in realtà forse era solamente una scusa per non lavorare su una parte di me dove invece era era bello e avrei mi avrebbe dato la possibilità di scoprire tante robe su di me e sono contenta però di averla fatta questa cosa secondo me è molto interessante anche secondo me eh altra domanda che proprio da 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 donna della strada nel senso io mi immaginavo te lo scorso anno con davanti delle poltrone vuote e quest'anno invece con un pubblico che era iper eccitato perché questa ripartenza no ci ha sovra eccitato tutti a partire anche dagli ascolti poi insomma che ha avuto questo festival pazzeschi il cinquantasei per cento con senso bulgaro no dico una bella differenza che guardare il vuoto immagino Noemi beh sì bellissimo la differenza dal palco perché vedere una platea piena vedere sentire anche un mormorio davanti a te e poi mi è piaciuta tanto la vicinanza anche di Amadeus e di Ornella Muti quando mi hanno presentato perché prima l'anno scorso eh questo metro di distanza addirittura lo misuravano no con dei centimetri invece sentirli vicini ecco secondo me è una dimensione che noi esseri umani abbiamo abbiamo tanto bisogno di recuperare e secondo me il palco di Sanremo è meraviglioso e venerdì ci darai venerdì ci darai la botta finale con you make me feel che oltre ad essere di per sé una canzone pazzesca credo che con la tua voce faccia il famoso matrimonio perfetto quello che esiste su una delle canzoni davvero senti ma guarda veramente io poi portando Natural Woman sul palco porto beh il cuore il mio cuore in mano perché il soul è un linguaggio una musica che mi ha insegnato tanto su di me sulla mia voce sul modo in cui mi voglio esprimere mi volevo esprimere diciamo che nella metamorfosi è una delle poche cose no che ho che ho mantenuto la scelta di di un pezzo di Rita Franklin natural uomo scritto da una donna che è Carol King Rita Franklin ha vissuto la sua carriera e la sua il suo modo di essere una grande voce una grande diva non solo a livello egoistico no per dire egocentrico non egoistico ma anche come una grande insomma lei ha lanciato dei messaggi importanti lei si sentiva parte della sua comunità la voleva raccontare volare raccontare le lotte le vittorie le sconfitte delle donne delle donne afroamericane l'ha fatto con questo pezzo bellissimo che io porto sul palco anche alla luce di quelli che sono stati i miei cambiamenti come donna il tema delle donne è un tema molto importante oggi come oggi e nella speranza di sentirci almeno una volta nella vita delle natural woman ma anche degli natural man eh non li teniamo fuori prima di salutarti Noemi l'ultimissima domanda stasera guardi il festival o ti riposi no lo guardo il festival voglio sentire altre tredici meravigliose canzoni grazie di cuore a presto un saluto a te agli amici delle onde funky naturalmente di London One Radio grande Paola un saluto a te agli amici di un saluto a te agli amici di un saluto a te agli amici di un